golf club monticello t della 7 par 3 di 190 metri una buca sicuramente impegnativa molto lunga con ostacoli d'acqua ce ne sono due uno sulla destra e uno sulla sinistra e poi un bunker a difesa del green che sulla parte destra ci sono dei mound dietro il green che danno profondità danno direzionalità alla primo colpo un green su due livelli per me 190 metri legno 5 ed eccomi sul green di questo difficile par 3 il mio legno 5 è andato molto vicino alla buca un green comunque ben difeso messo anche di traverso abbastanza piccolo per la distanza di questo di questo part 3 con dei mound sulla sinistra ed un bunker sulla destra abbastanza profondo adesso questo path abbastanza difficile in discesa destra sinistra per il bird grazie a tutti 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 grazie a tutti